Allora, è fatta! D'ora in poi le guardie di Podarce combatteranno a mani nude e con la pancia vuota. Eccellente! Quindi, cosa farai quando Podarce sarà morto e la ribellione trionferà? La triste verità è che non ne ho idea. Da quando ne ho memoria, la mia vita è stata un'eterna lotta. Non so che significhi vivere o ridere. La vendetta mi ha completamente consumata. E Alexios cosa farà quando sarà tutto finito? Abbiamo molte cose in comune. Quando sarà tutto finito, potremmo cercarci, non so, un posticino tranquillo. E cosa avremmo in comune esattamente? Lo so che hai lottato per arrivare fin qui. Hai dovuto combattere per ottenere tutto quello che hai. Lo so, perché anch'io ho fatto lo stesso. Siamo guerrieri. Sono lieta che gli dèi ti abbiano condotto qui, Alexios. Mi piacerebbe passare del tempo insieme. Avrai molte storie da raccontare. È ora di andare. Quando Podarce scoprirà cos'è accaduto a Delo, vorrà vendicarsi. E i primi a soffrire saranno i Deliani. Jahre. Kaiere. Grazie a tutti.